Ringrazio innanzitutto il relatore che ha fatto un lavoro condiviso nonostante il nostro non voto favorevole al provvedimento per tutta una serie di motivi che adesso andrò a enunciare. Il lavoro è sicuramente un tema fondamentale per questa regione, cioè la ricerca e innovazione, cioè investire e aiutare quelle imprese che possono dare valore aggiunto per il nostro territorio e di conseguenza posti di lavoro, ricchezza, quei posti di lavoro che possono essere mantenuti da un'alta marginalità degli interventi e degli investimenti. Quindi è un settore fondamentale. Per questo motivo però riteniamo che sia fondamentale che la regione lo affronti in maniera complessiva e senza dover incastrarsi tra le competenze e gli equilibri a cui sottostà la maggioranza che governa ad oggi regione Lombardia. Nello specifico noi dal primo momento abbiamo chiesto espressamente che all'interno di questa revisione di legge si toccasse un tema per noi molto importante, cioè la famosa fondazione biomedica. La fondazione biomedica oggi svolge un ruolo di erogatore di bandi per una parte del servizio della ricerca e innovazione, soprattutto sugli aspetti sanitari e per noi quello era ed è il soggetto che dovrebbe gestire complessivamente. Però non è sotto l'assessorato dell'assessore del Gobbo, quindi qui si scontrano problemi politici perché lo gestisce l'assessore Garavaglia, perché dentro fondazione biomedica c'è una società, la proprietà del 100% della NMS Gruppo SRL che è proprietaria di Nerviano. Quindi un soggetto giuridico diverso che riceve soldi partecipando a bandi erogati dalla fondazione biomedica. Quindi un paradosso e un palese conflitto di interessi tra erogatore e soggetto che riceve fondi, per una quota parte degli investimenti, assessore, come lei sa bene, non per tutto. Ecco noi abbiamo detto se si affronta il tema che è fondamentale ed è importante facciamolo in maniera omnicomprensiva. Questo non è stato fatto e a noi spiace, proprio per questo motivo abbiamo presentato un emendamento in tal senso sia in commissione che è stato bocciato sia qui in aula dove lo ripetiamo appunto. Abbiamo apprezzato il fatto che sia stata tolta l'agenzia perché inizialmente si era partiti con rilanciare e costituire un nuovo ente che noi vediamo come un ennesimo spreco. Si è deciso di arrivare a fare questo foro consultivo che può avere anche una sua ragione d'essere, non capiamo però perché all'interno di un foro così importante e di così alto spessore per fare una marchetta elettorale si debbano inserire anche i rappresentanti degli enti locali e sindacati perché i lavoratori vanno inseriti nei posti in cui contano. Cioè ai lavoratori gli va dato un posto di lavoro, non che debbano andare a essere rappresentati con degli enti sindacali in un soggetto che deve andare a dibattere su dei temi molto specifici. Non possiamo mettere una rappresentata sindacale semplicemente perché almeno facciamo una marchetta. Riteniamo che sia una scelta di visione sbagliata e mi sembrava doveroso proprio per questo motivo presentare degli emendamenti in tal senso. Cioè noi abbiamo assolutamente chiesto che vengano tolte queste figure che nulla hanno a che vedere con l'impianto complessivo della norma anche se politicamente capiamo che il PD avendo votato a favore ha molto più valore e molto più peso nel chiedere qualche miglioramento rispetto a noi che abbiamo deciso di astenerci. Astensione che dopo motiveremo magari meglio ma che deriva proprio da questo approccio. Abbiamo apprezzato il fatto che sia stato cercato questo percorso condiviso. Noi sinceramente ci aspettavamo ci fosse una maggior forza da parte della regione per intervenire su questo tema. Che è un tema fondamentale, che è un tema sul quale probabilmente è necessario investire più risorse. Ma, faccio una divisione e poi concludo, investire più risorse sulla ricerca non significa dare più soldi per il forum consultivo. Tolte quindi lo stanziamento delle risorse per il forum, ci auguriamo che a questo punto, Assessore del Gobbo, si possa avere un maggior quantitativo di risorse in ottica bilancio 2017. Visto che andremo a discuterlo, visto che domani col Presidente Colucci inizieremo a affrontare il tema in commissione, al di là delle chiacchiere e di riempirci la bocca sul foro, i consulenti, il percorso partecipato per raccogliere le proposte, che è stata una cosa che ovviamente ci ha visto pienamente favorevoli, anzi mi viene da dire che cercate di rubarci anche il lavoro, e quindi anche questo lo abbiamo apprezzato molto, è necessario che vengano investiti più soldi. Se avete difficoltà con la Giunta, il Movimento 5 Stelle pubblicamente vi dà massima disponibilità per presentarli noi gli emendamenti, per farvi avere più risorse da investire su questo settore. Le togliamo per le autostrade inutili che voi dovete difendere e le mettiamo nella ricerca. Noi siamo a disposizione, però sarà a quel punto necessario che anche voi, e mi rivolgo in questo caso a NCD, dato che l'assessore è di quel partito, Lombardia Popolare, insomma sono rimasto indietro con i continui cambi di casacche, possa assolutamente sostenere questo approccio. Quindi magari possiate trovare la forza per presentare voi un emendamento di questo genere, perché se vi servono più soldi e più milioni, noi sappiamo dove andarli a prendere, lavoriamoci insieme, massima disponibilità. Grazie.